Anche agonistico per persone... Sport e disabilità, due parole che vanno a braccetto quando si considera il principio dell'inclusione. Non a caso esiste il CIPI, il Comitato Italiano Paralimpico, che funge da collante, tra quanti, pur vivendo una condizione di disabilità, passano dallo sport a livello amatoriale a quello agonistico. Tutti abbiamo negli occhi le gesta di quel grande sportivo che è sempre stato Alex Zanardi. Ora Fano prenderà il via, a partire dal prossimo anno scolastico, un progetto sportivo e didattico, non basato sul singolo, ma per l'intera collettività e le scuole, con il chiaro intento di coinvolgere bambini affetti da diverse tipologie di disabilità e aviarli alla pratica sportiva, coinvolgendo i loro compagni normodotati e magari, perché no, bendati, nel caso che il loro compagno sia cieco o ipovedente. Inclusione, appunto. Abbiamo progettato di fare delle attività in collaborazione con l'Istituto Padalino, che coinvolgeranno tutti i ragazzini delle primarie, adesso vedremo quali sono le classi e come possiamo organizzarci, con l'obiettivo di fare un'attività diretta anche ai diversamente abili, con l'obiettivo dell'inclusione e della socializzazione, ma anche dell'aspetto sportivo e prestativo, chiaramente in una seconda fase. Oltre questo è prevista una formazione degli insegnanti sull'aspetto dello sport paralimpico. La portata di questo progetto la dà la presenza e l'attenzione che il Comitato Paralimpico ha riposto in questo progetto che, hai visto mai, non sforni qualche campione che ancora non sa di esserlo o non conosce le proprie potenzialità. Il CIP a livello nazionale come vede questa iniziativa locale che coinvolge scuole, amministrazione e anche utenti privati. Fa parte dell'attività istituzionale del CIP, l'attività istituzionale che riguarda l'avviamento allo sport. È un'attività che abbiamo solo noi perché avviare i disabili, quindi persone potenziali sportivi con disabilità allo sport per noi è molto complicato. Lo facciamo attraverso dei rapporti convenzionali proprio con gli istituti scolastici singolarmente. Abbiamo una convenzione con il MIUR per progetti più ampi, a più ampio respiro e poi naturalmente entriamo anche nelle unità spinali, abbiamo un rapporto con l'INAI proprio per fare in maniera di reclutare il maggior numero possibile di tesserati, soprattutto dal mondo scolastico. Ma come spesso accade è dall'esperienza di vita vissuta che scoccano le scintille per accendere i grandi fuochi e chi meglio di una mamma, proprio perché in quanto mamma, oltre al proprio, pensa anche a tutti gli altri bambini ed estende la propria aspirazione a beneficio di tutti. Non c'è niente di male a essere disabili perché si è diversamente abili e lì l'italiano ci aiuta molto invece di parlare di handicap che fa molto paura. Quindi è un progetto che parte dai diritti dell'infanzia, i diritti della persona e i diritti umani alla fine. Ho pensato che mio figlio avesse delle possibilità in quanto è solo non vedente, quindi questo solo passatemi. Quindi dall'età di solo di sei mesi ho cominciato con la didattica, con le cose e ne ho avuti i frutti. Mio figlio è molto bravo in questo, se posso dirlo, nel nuoto, quindi porterò avanti questa cosa qui e speriamo, perché no, di portare avanti un concetto olimpico, paraolimpico, che sarebbe per me un grande orgoglio.